Quest'anno anche Univercio, che è presente qui a Barab Italia, abbiamo presentato la nostra nuova linea di prodotti solubili. Non troviamo più solamente il classico caffè al ginseng, caffè aromatizzati, ma abbiamo ampliato la gamma con dei prodotti che incontrano le esigenze sempre più diversificate dei consumatori. Abbiamo quindi ampliato la nostra gamma con tè, tisane, ad esempio il chai, il tè macea. Tutti questi nostri prodotti li potete trovare ovviamente nel classico pack per distributori automatici, ma soprattutto in capsule. La grande novità di quest'anno sono tutta la nostra linea di capsule compatibili dolce e gusto. Abbiamo una gamma molto ricca che implementiamo quotidianamente. Sono delle capsule molto professionali, abbiamo una macchina dedicata esclusivamente al canale Home, è una macchina professionale che garantisce un'erogazione perfetta ed un prodotto ottimo.